Claudio Alvisi, si può parlare di un 2019 in crescita per l'attività PGS in Liguria? Si, si può parlare di attività in crescita. Noi siamo specializzati sulla ginnastica, sulla danza e abbiamo acquisito nuove società. Abbiamo un livello molto alto soprattutto nella ginnastica ritmica e nella ginnastica artistica stiamo crescendo. Stiamo crescendo sia in termini di qualità, c'è un nuovo direttore tecnico nazionale, e sia in termini di società. Abbiamo sviluppato corsi di aggiornamento per tecnici e per giudici e ci stiamo in questo momento cercando di altre linee di attività sportive che possono essere gli sport rotellistici piuttosto che la pallavolo, piuttosto che il basket. Ma qui siamo ancora all'inizio. 2020 che cosa vi aspettate? Nel 2020 dovremmo sviluppare le attività che dicevo, cioè pallavolo e basket. La pallavolo c'è già un inizio, il basket è tutto da costruire, però dobbiamo riuscire in questo. Abbiamo perché? Perché abbiamo poi le attività a livello nazionale, abbiamo tutti nazionali, e poi la PGS International. Quindi abbiamo anche un'attività internazionale di pallavolo, di basket e di calcio, al quale vorremmo come comitato regionale poter inviare delle società. Sono molto belle perché sono incontri di giovani in varie località europee e anche dell'America del Sud, cioè dove ci sono le case salesiane in sostanza. Però dobbiamo farlo insomma.